Anche nel 2020, il gruppo editoriale TV7 si è dimostrato un punto di riferimento per tutto il nord-est italiano. Siamo leader in TV, nel digital, nell'informazione, televisione. Grazie ai nostri palinsesti, le reti del gruppo TV7 hanno rafforzato il primato d'ascolto con un audience giornaliero superiore ai 600.000 contatti. Digital, siamo un punto di riferimento anche sui social, con una media di 100.000 visualizzazioni giornaliere dei nostri contenuti web e oltre 60.000 follower sui nostri canali principali. Informazione, i nostri giornalisti hanno lavorato ininterrottamente per dare un'informazione aggiornata, chiara, veritiera e precisa per raccontarvi questo drammatico momento storico. Il network di TV7 si è dimostrato un polo editoriale unico nel territorio. Ora leader anche in Friuli Venezia Giulia, avendo acquisito con Confindustria Alto Adriatico e Confartigianato il 13, la più importante emittente TV della regione. Siamo un gruppo leader che investe nel territorio e offre lavoro alle famiglie del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Lavoriamo ogni giorno per dare il nostro contributo al rilancio economico del nord-est e del bel paese. Gruppo editoriale TV7. Insieme, per un futuro migliore. Gruppo editoriale TV7. Insieme, per un futuro migliore.